Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code e attratti per traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud. Per lo stesso motivo, sempre in direzione Bologna, rallentamenti tra Aglio e Badia. Domani notte, in orario 21.06, sarà chiuso lo svincolo di Arezzo in entrata in direzione Roma e in uscita provenendo da Bologna. Sempre domani notte, in orario 21.06, sulla 1 Panoramica, chiuso il tratto tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione Roma. Contestualmente chiuso all'entrata di Rioveggio in direzione Roma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!